Allora ragazzi, ora che è passato un po' di tempo, posso parlarvi di Avengers Endgame, perché io sono stata la prima, quindi sono stata la prima che ha visto questo film. Allora, partiamo dal fatto che io sono andata là con tutti i buoni propositi, no? Quindi, vi sono andata a vedere prima Infinity War, mi sono sbragata, e risate una cosa, ho detto una, una, non deve morire Tony, una. E la Marvel ha pensato benissimo di far morire Tony! Ma andate a affanculo! Credete, mio Thanos, lo capisco, che vuole spazzare via l'universo e metà universo, ma se io avessi avuto le gemme, vi avrei uccisi tutti, dal primo all'ultimo. Adesso voi brutti stronzi, lo fate risorgere, non mi importa come, non mi importa il modo, non mi importa quanto vi ci vorrà, ma voi lo fate tornare in vita, perché quel pezzo di fregno illegale, io lo rivoglio, e lo rivoglio adesso.